Sono Cecos, vivo a Lecce, ritornare con una presenza così importante come può essere Fineco mi ha attirato e mi ha portato a partecipare a questa colla. Ho scelto il nome verso il futuro perché è proprio la direzione che voglio dare. Da poco è nata mia figlia, tutti i giorni a vederla giocare mi ha fatto venire in mente questa idea che poi è anche quell'idea di un bambino che sviluppa, che cresce e che guarda il suo futuro. Loro io credo che possono insegnare molto di più degli adulti, sono il futuro di tutti noi.